Questo è l'ultimo video della guida alla compilazione online. Ti spiega come concludere il percorso e inviare all'Istat il tuo questionario interamente compilato. Il questionario può essere inviato quando tutte le sezioni sono state completate. Soltanto allora si attiverà in basso a destra il pulsante Invia il questionario. Cliccando su Invia il questionario si procede con l'invio definitivo all'Istat. Non sarà più possibile modificare le risposte date. Una volta inviato il questionario ricorda di salvare la ricevuta di avvenuto invio. Per eventuali dubbi sui quesiti puoi consultare la guida dettagliata alla compilazione, visitare l'area dedicata a domande e risposte, contattare l'ufficio provinciale di censimento presso la Camera di commercio della tua provincia. Se durante la compilazione online riscontri qualche problema tecnico, puoi scrivere a comunica.istat.it